Si vede già meglio, io ho il collo avvolto, quindi questo qua se uno si mette e qua dietro praticamente la parte galleggianti non c'è quasi, quindi questo dibotto mi tiene su ma anche se sono girato di schiena mi gira la parte galleggiante qui è molto grande, dietro praticamente assente, soprattutto nella parte bassa non c'è proprio parte galleggianti, questo qui è più ingombrante, sicuramente sulle attività sportive non è il massimo, però questo qua se uno non sa nuotare lo possono buttare anche in maggio all'uceano che rimane su come un tappo di sugo Questo per il temere va bene, è impegnativo Vi dico un'altra cosa, i dispositivi che abbiamo fatto vedere finora se non sono allacciati correttamente è come non averli, si sfilano, voglio dire se io